cari ascoltatori ben ritrovati al nostro appuntamento con pensieri parole e musica la trasmissione che va in onda ogni 15 giorni sul raggio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne il lunedì alle 10 e 03 e in replica sempre il lunedì alle 19 e 03 sulla frequenza 87.6 megahertz e in diretta live sul sito internet www.diocesipescara.it io sono daniela quieti e auguro un buon inizio di settimana a tutti voi al direttore donremo chiuditti a natasha chiuditti alla console tecnica e musicale e al giornalista massimiliano spiriticchio eccoci nuovamente insieme dunque per pensare parlare e ascoltare musica oggi è lunedì 19 dicembre e tra pochi giorni arriverà il natale la ricorrenza più importante e bella dell'anno per tutte le persone del mondo che credono nel mistero della natività e nel vero spirito natalizio questo è il periodo in cui si prepara il simbolo più espressivo del natale il presepe il vangelo di luca racconta l'umile nascita di gesù in una grotta perché non c'era posto per essi nell'albergo e la madonna dopo il parto fasciò il piccolo e lo pose in un presepium cioè in una mangiatoia la raffigurazione della natività ha origini antichissime e già i primi cristiani ne avevano ritratto scene nelle catacombe ma il presepe come lo celebriamo oggi fu opera di san francesco d'assisi che nel natale del 1223 volle allestire nel paese umbro di greccio il primo presepe vivente per celebrare la sacralità della nascita di gesù bambino con l'adesione di tutta la popolazione ricchi e poveri nel segno di una rinnovata speranza e giotto nell'immagine della natività frescata nella basilica inferiore di san francesco d'assisi nel 1313 circa ha testimoniato artisticamente quanto fosse stato ispirato dalla spiritualità del presepe narrato dai francescani il primo modello di presepe giunto fino a noi è quello di legno scolpito da anolfo di cambio nel 1280 custodito nella cripta della cappella di santa maria maggiore a roma come non fermarsi allora in questi giorni a visitare un presepe nella penombra semmai di una piccola chiesa o di una cattedrale con la suggestione di un suono di cornamuse in sottofondo e ritrovare osservando le figurine la cometa i remaggi le pecorelle tutto lo stupore dell'infanzia nella cui semplicità e purezza lo spirito natalizio si fa espressione di armonia e dei valori autentici dell'esistenza ma ora un intervallo musicale grazie a tutti 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 Con l'intervento di un graditissimo ospite, il dottor Giuseppe Quieti, giornalista e scrittore che ha indagato sul patrimonio artistico abruzzese e che ci illustrerà alcuni capolavori dell'architettura religiosa. Benvenuto a Raggio Speranza, dottor Quieti. La nostra regione possiede pezzi pregiati che rappresentano una preziosa ricchezza culturale. Qual è l'edificio più significativo? Sono tanti in effetti, a cominciare dall'abbazia di San Clemente a Casauria che è sicuramente uno degli edifici più significativi e più affascinanti del nostro patrimonio culturale ed artistico. Poi c'è in le vicinanze quella di Santa Maria Arabona e se uno vuole ammirare un romanico purissimo può andare a San Tommaso di Caramanico dove c'è anche la colonna sacra. Ma le testimonianze artistiche e religiose dell'Abruzzo sono moltissime. Io comincio dalle più vicine, qui siamo a pochi passi dalla cattedrale di San Cetteo dove ci sono, come tu hai già ricordato in una precedente trasmissione, alcuni reperti storici bellissimi. C'è il quadro del Guercino donato da Danunzio all'abbate di San Cetteo, c'è il crocifisso ripreso dal calco di Donatello presente nella Abbazia del Santo a Padova. E poi c'è la cattedrale di San Giustino a Chieti, per chi vuole fare un pellegrinaggio più specificamente religioso. Consiglio e Santuario del Beato Annunzio sul Prizio a Pesco Sansonesco, il Volto Santo di Manoppello, l'abbazia di San Liberatore a Maiella a Serra Monacesca, la Chiesa di San Pietro ad Oratorium a Bussi sul Tirino e l'abbazia di San Giovanni in Venere. E per ammirare due amboni, due pulpiti di eccezionale bellezza, c'è la Chiesa di Santa Maria in Piano, di Santa Maria del Lago a Moscufo e la Chiesa di Santo Stefano a Cugnoli, dove c'è il pulpito scolpito attorno all'anno 1160-1200 da Nicodemo da Guardia Grele. Nella Chiesa invece di Loretta Prutino, quella di Santa Maria in Piano, possiamo ammirare uno stupendo incausto, un affresco con il giudizio universale. Già che ci siamo in quella zona, non mancate di visitare il Museo Diocesano di Penne, che veramente racchiude capolavori di arte sacra di grandissimo fascino. E sono Chiese oltretutto in cui è facile pregare e raccordarsi con il sovrannaturale, cosa che non accade sempre perché quando visitiamo una Chiesa, qualche volta una cattedrale, ci lasciamo prendere più dalle bellezze architettoniche che non dal richiamo spirituale che promana da questi bellissimi luoghi. Non mancate di visitare, se avete tempo, la cattedrale Basilica di Santa Maria Assunta in Atri, che è una città stupenda. Naturalmente Atri è tutta bella, con il Palazzo Acquaviva e con tante altre testimonianze architettoniche. Di particolare spessore la Basia di Santa Maria di Collemaggio e la Basilica di San Bernardino all'Aquila, così come la Basia e il Duomo dell'Assunta e San Berardo a Teramo. Un po' più lontano, ma vale la pena di andarci, il santuario di San Gabriele della Dolorata, a Isola del Gran Sasso. D'altra parte, sentendo che ci ricordi tutti questi luoghi, mi viene in mente che è stata definita Domus Christi, la nostra regione già nei tempi, non mi ricordo se Petrarca, cioè è una concentrazione veramente di luoghi religiosi importanti, quindi, nella nostra tradizione. Sì, sono luoghi e manifestazioni religiose anche. L'Abruzzo è una regione di grande spiritualità. Adesso magari non coincidono proprio con il periodo del Natale invernale, ma come non citare le manifestazioni religiose che si svolgono in Abruzzo, quali le processioni dell'Aquila, di Chieti, di Teramo e anche quella di Pescara. Come non citare la bellissima, affascinante manifestazione della Madonna che scappa a Sulmona, oppure la sfilata di barche che si svolge a Pescara per la processione di San Ceteo in mare, il Mastro Giurato di Lanciano, la festa dei Serpari a Cocullo. Insomma, sono manifestazioni bellissime. In questi prossimi giorni andate a vedere il presepe vivente di Rivi Sondoli, che ha un fascino particolare. Se volete, in qualsiasi periodo dell'anno, potete salire la Scala Santa di Campli e godere di una meravigliosa vista sul Gran Sasso. Grazie, grazie veramente a Giuseppe Quieti per averci ricordato tutti questi luoghi, quindi meravigliosamente spirituali, della nostra regione. Un motivo anche in più per visitare dei presepi e raccogliersi quindi nella spiritualità di queste cattedrali e di queste chiese. Ma ora un nuovo stacco musicale. Grazie a tutti. Riprendiamo il filo delle nostre considerazioni. Prima di salutarti, Giuseppe Quieti, volevo farti ancora una domanda. Quali manifestazioni religiose consiglieresti in questo periodo? In questo periodo di Natale le manifestazioni religiose non mancano. Praticamente in quasi tutti i centri abruzzesi si ricorda la natività di Nostro Signore. e quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Io oltre a quegli itinerari che ho citato consiglio di visitare la chiesa della Madonna dei Sette Dolori a Pescaracolli che ha sempre un suo fascino. A me è sempre piaciuta moltissimo ed è una chiesa in cui si può pregare veramente con grande devozione. Poi la chiesa di San Giopito a Loretto a Prutino oppure ancora più vicino a Chieti le chiese della Trinità, di Sant'Agostino, di San Domenico, di San Francesco al Corso, della Santissima Annunziata, di San Francesco di Paola. Poi ancora il Santuario della Madonna della Libera a Loretto a Prutino. Insomma, che dire, tutte queste realtà abruzzesi della nostra religione sono la testimonianza di una devozione che il popolo abruzzese ha sempre avuto e la vicinanza con il soprannaturale è un'esigenza propria dell'animo umano. Noi la sentiamo molto, noi siamo un popolo forte e gentile e in questa forza, in questa gentilezza, si racchiude anche la consapevolezza che la nostra vita è soltanto un transito e che avremo, al di là di questa vita, un'altra vita fatta di adorazione e di vicinanza all'Altissimo che è insita nello spirito di tutti noi. Io, prima di concludere, vorrei ringraziare Daniela per l'occasione che mi ha dato di dare questi pochi consigli agli ascoltatori di Radio Speranza. Ringraziare naturalmente Radio Speranza, il direttore, i suoi collaboratori, perché questa radio è veramente un appuntamento, vorrei dire, essenziale per chi ama raccogliersi un momento in considerazioni che vanno al di là della vita quotidiana di tutti i giorni. Pensieri, parole, musica e poi una trasmissione che mi piace molto e faccio ancora i complimenti a Daniela Quieti assieme agli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie a Giuseppe Quieti. La notte santa della Natività, dunque, che sta per giungere, rappresentata dal presepe in tutta la sua spiritualità, reca il suo messaggio evangelico sempre più attuale, di pace in terra agli uomini di buona volontà. Raccogliersi nel silenzio e nell'intimità di un presepe, con la semplicità e la purezza di un aia, le gallinelle, un ovile, ci ricorda di essere più upili, come Gesù Bambino ci ha insegnato, nascendo, appunto, in una stalla. Il Natale è tempo di amore e di speranza, è il rinnovarsi, il rafforzarsi della speranza. E noi speriamo che il buio si trasformi in luce, la sfiducia nella fiducia in un mondo più fraterno, più vero e generoso, per sentirci meno sperduti di fronte all'incertezza e alla precarietà del domani, tutti uniti in uno spirito natalizio che si fa espressione di armonia e dei valori più autentici dell'esistenza. Carissimi ascoltatori di Radio Speranza, tanti auguri di Buon Natale a tutti.